Allora, ciao Manuel, vendere così fa male, per certi versi, ma non sono buono. Non è utile girarsi intorno, è una partita sotto controllo, abbiamo avuto magari un momento di difficoltà, però poi abbiamo controllato la gara senza avere grossi pericoli, abbiamo avuto noi l'opportunità di chiuderla, e poi alla fine dell'ultimo minuto è arrivato questo gol, su pallina attiva, dove sicuramente adesso cercheremo un attimo di capire un po' i motivi che subiamo col Cosina, un po' troppo sulle pallina attiva, però adesso non ci deve preoccupare più del dovuto perché poi diventa anche una cosa mentale, secondo me, quindi adesso tranquillamente con lo staff penso che si analizzerà e con gli errori commessi durante la gara, e niente, poi secondo me adesso, logico fa male, però cancelliamo subito questa parentesi e guardiamo quello che secondo me è effettivamente importante, che è la prima di campionato a Modena. Parlando con i tecnici, soprattutto con Apolloni, si è messo l'accento su un problema applicato di attenzione, quella di SIA sottoporta con un'altra occasione abbastanza grande di risciupate, sia in quelle palle inattive, ricordarlo a quello che ha il quarto gol di fila, ha preso su punizioni o comunque su calci d'anno. Ma come ho detto prima, sicuramente se si subisce qualcosa su calci pazziato, perché per tanto il motivo c'è, quindi è giusto che lo analizziamo, capiamo il motivo, con tranquillità, senza fasciarsi la testa e guardiamo avanti un po'. Poi sulle occasioni create non mi impongo nessun problema perché secondo me con la lucidità, con la forma di qualche minuto in più nelle gambe, penso che non ci sono problemi su tutti. Siamo una squadra che secondo me è intelligente, quindi penso che riusciremo a chiudere le partite e quello non è un problema che mi impongo in questo momento. Da il punto di vista tuo invece, in questo inizio di stagione come lo giudichi, come ti stai provando? Come ho visto che in questo 3-5-2 spesso trovi anche gli inserimenti o comunque ti fai trovare quasi nella linea dei due attaccanti nel primo tempo, soprattutto, che hai fatto spesso. Ma come stai vivendo questo inizio di stagione rispetto a quelle che sono le tue possibilità? No, le tue volte mi trovo bene, è un gruppo affiattato, si lavora bene, c'è un attimo da registrare un po' i meccanismi, perché comunque siamo tanti ragazzi nuovi, quindi dobbiamo conoscerci ancora meglio, ma penso che piano piano ci vuole ancora un po' secondo me per vedere il Parma quello giusto e quello vero, però, come ho detto prima, c'è un bel affiattamento all'interno del gruppo, ci troviamo bene, penso che siamo un gruppo valido sia a livello caratteriale che a livello tecnico, quindi penso che se abbiamo l'atteggiamento giusto e questo non penso che sia il problema, ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni, però c'è ancora molto a lavorare. Come ho detto prima, penso che la partita noi la stavamo gestendo abbastanza bene, non ricordo delle occasioni da parte di loro su azione pericolose, noi abbiamo avuto, non sbaglio, 2-3 alle gol nette, come ho detto prima, la stavamo gestendo bene, poi al finale su una ripartenza abbiamo fatto pallo per non rischiare qualcosa in più e niente, abbiamo preso questo gol, fa male perché Fenerber non fa piacere a nessuno, è inutile girarsi intorno, però, come ho detto, non creiamoci problemi più del dovuto in testa, continuiamo a lavorare come quello che stiamo facendo e analizziamo gli errori commessi e quindi guardiamo avanti. Quindi tu sotto la prestazione, ti soddisfatti di quello che hai fatto oggi? A che punto ti senti? Sono uno che ci mette un po' a entrare in forma, penso che per vedere il vero scavone ci vuole ancora un po', perché comunque a livello fisico, come ho detto, ci metto un po' a carburare, però penso che piano piano si vedrà scavone e anche il Parma a quello giusto. Oggi ha debuttato dall'inizio una partita ufficiale Calaio, sperando che non ci sia fatto niente di male, è un fortuno che ha avuto, effettivamente si vede che ha dato qualcosa ancora in più questa squadra, ha le prime uscite stagionali, credo che anche nello spogliatoio la presenza così si faccia sentire il tuo ritiro, inutile, è un giocatore importante, giocatore che ha fatto un sacco di gol in varie categorie, abbiamo altri attaccanti importanti, quindi penso che la rosa sia molto ampia, mi starà varie possibilità da scegliere, è normale che anche il rigore che è venuto fuori, è stata una giocata intelligente a parte sua, dove ha coperto il pallone con il corpo, quindi inutile giocatore in torno, giocatore importante come ne abbiamo altri in rosa. Che Modena vi aspettate, se ci avete già pensato, ti dice una situazione un po' particolare, ma da questo potrebbe essere magari una trappola? Sinceramente adesso pensavamo alla propria scienza, da domani penseremo al Modena, sappiamo che inizia il campionato, sappiamo che inizia il percorso importante, il proprio obiettivo che ci siamo prefissati, quindi sinceramente non posso ancora rirti quello che abbiamo in testa per questa partita, perché non abbiamo ancora parlato, però sicuramente noi cercheremo di farci trovare pronti. Grazie. Grazie.